Il piano di efficientamento e riqualificazione 2024-2025 varato dall'Asp presenta diverse misure, tra cui la riattivazione dei posti letto, la riduzione degli acquisti di prestazioni dalle strutture private accreditate, l'implementazione dell'endodinamica e l'apertura del nuovo pronto soccorso dell'ospedale. Questo piano mira a limitare i costi ed è in linea con le disposizioni dello scorso agosto, quando il presidente della regione, Roberto Occhiuto, ha assegnato all'azienda un budget di più di 356 milioni di euro per il 2023. Per quanto riguarda la riattivazione dei posti letto ospedalieri, attualmente 314, il piano del commissario Brambilla indica una graduale disattivazione dei posti letto destinati all'emergenza Covid. Questo consentirà di rendere operativi almeno alcuni dei posti letto precedentemente disattivati. Tuttavia si prevede che la sfida principale sarà reclutare medici specialisti per la terapia intensiva neonatale e la medicina d'urgenza, poiché in Italia si registra una carenza di tali professionisti. Fino ad ora alcune criticità si sono manifestate in diversi reparti, come ortopedia, dove sono attivi 20 posti letto su 30, chirurgia generale con 20 posti letto su 30, cardiologia con 22 posti letto su 30, terapia intensiva neonatale senza alcun posto letto attivo su 4 e medicina d'urgenza senza alcun posto letto attivo su 8. Il piano mira ad affrontare queste sfide per garantire un migliore funzionamento e una maggiore efficienza nel sistema sanitario.